Sono qui perché mi è stato chiesto di applicare alcune conoscenze dell'analisi sensoriale nel settore pizza in maniera tale da poter spiegare come effettuare una valutazione descrittiva ed oggettiva delle pizze o dei pani. A mio avviso l'attività sensoriale, ovvero sia l'applicazione dell'analisi sensoriale, è una disciplina indispensabile, è chiaramente esplicitata a livelli piuttosto elementari, piuttosto basilari per i neofiti e un po' più con specificità per i professionisti perché serve in primis a argomentare e a spiegare le qualità, i descrittori di una pizza e quindi ha un impatto anche a livello di marketing perché i pizzaioli non si trovano paesati nei confronti di un cliente questuante. In più apre uno scenario sulle potenzialità che hanno i valutatori in sede di giudizio. Io ho conosciuto PGM da poco, mi sembrano un gruppo di ragazzi molto volonterosi, credo che possa, a tutte le prospettive perché diventi una grande realtà, l'importante è che loro mantengano questo aspetto di pulizia, di trasparenza e di tanta voglia di fare non proprio finalizzato in primis al mero lucro. È ovvio che è un'associazione per cui deve trovare delle fonti di sostentamento, però una fonte di sostentamento potrebbe essere, proprio come quello che loro stanno facendo, la formazione, quindi fare cultura e elevare molto più di altri il livello tecnico e le competenze degli associati.